Il gioco è eliminato al pedicito salto per il gioco, la genetica è bene, la zona è passata, però è un po' oggi verso la bascola, la possibilità è all'impatto a metà, la passerà da un buone. Vuoi il video? Eh? Vuoi il video tuo? Sì, fammelo, dai. Così non guardo le zone. Dai, no. Fred, cosa fai? Su questo? Fred! Ciao. Fiii, ciao! 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 Grazie! Grazie!